Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori 7 km di coda tra il Vivio A1 Variante e Sasso Marconi. Fare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla A11 l'area di servizio di Serravalle Sud è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili fino al 28 febbraio per lavori chiusura della corsia di sorpasso dal km 75 più 700 in direzione Mare nel ramo di Pisa. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.